B22... Ah, B22. Sì, 22. Ciao. Ciao. Steph, in persona, sono Tessa. La mia nuova compagna a distanza. Lei è Tristan. Ciao. Ciao. Sono Tessa. Avanti, mica mordiamo. Ah, scusa, lei è mia madre e lui è Noah. Ciao. Ciao. Mi ero depressa quando ho saputo che mi davano una al primo anno. Poi però ho pensato, meglio così sarò il tuo spirito guida. Con noi entri nei posti figli anche dove non puoi. Ci pensiamo noi. Mamma. Grazie a tutti